Ovviamente ci rendiamo conto che se crolla una piazzola, sì, è grave, però se dovesse succedere, scongiuriamo questo, però se dovesse succedere in altri punti ovviamente sarebbe molto 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 più grave. Doppio esposto alla procura di Arezzo e Forlì oltre a quelli già depositati in passato da parte del comitato Vergogna e 45 per capire dove e come sono stati spesi i fondi stanziati dall'ANAS per ripristinare il manto stradale. I nuovi appalti, i nuovi stanziamenti che vengono fatti di continuo però ci chiedevamo appunto dove finiscono questi soldi insomma e in seguito anche al crollo della piazzola famosa ormai lì abbiamo chiesto appunto di mettere in sicurezza l'area prima di tutto perché è stata posta sotto sequestro, sì, però la frana ancora continua insomma e quindi la cosa principale da fare è mettere in sicurezza. E in più abbiamo chiesto anche che vengano fatti dei carotaggi non solo nell'area adiacente alla piazzola ma anche nei cantieri che sono praticamente ovunque e soprattutto nei punti più critici tipo viadotti, tipo i piloni. Ci sono segnalazioni continue di nobuche, crateri che si aprono in seguito soprattutto agli ultimi eventi atmosferici però insomma non dovrebbe verificarsi questo. Gli ultimi lavori che sono stati fatti per rattoppare diciamo queste buche che si sono formate in seguito a neve, ghiaccia eccetera sono nuovamente, l'asfalto è nuovamente saltato quindi ci chiediamo anche che materiale viene impiegato e come viene impiegato perché spendiamo questi soldi e non si sa né dove e né come. Ecco ma voi del comitato avete mai provato a mandare mail all'ANAS, segnalazioni, contattarli? Sì, contattati tramite mail, tramite numero verde e niente rispondono, dicono che quanto prima interverranno insomma però ecco gli interventi sono sotto gli occhi di tutti insomma.